Ci troviamo alle ciminiere di Catania, luogo dove si tiene il più grande evento di sempre, l'Etna Comics, e sta per succedere qualcosa di magico. Quante ne trovate? Tre, e tu? Quattro. Dopo tutto questo tempo, siamo riusciti a trovarle tutte. Finalmente! Questo significa che potremo esprimere il nostro più grande desiderio. Chi saranno i nostri giovani eroi? E quale sarà il grande desiderio di cui parlano? Cosa chiederanno al potente draco? Ti prego, compari o potente drago, io ti invoco! Ebbene sì, è successo. Il drago è stato evocato. Cosa accadrà adesso? Ti osa richiamarmi a sé? Siamo stati noi, o potente drago! Bene! Qual è il tuo desiderio? Vorremmo che tu realizzassi per noi il miglior sito web. Tutto qui. Mi avete evocato solo per questo? Lo sai che non è necessario richiamare un drago per creare il tuo sito web? Con l'intelligenza artificiale di Flazio puoi crearlo in un secondo. Il sito web di Etna Comics è stato realizzato proprio da Flazio. Ti concedo la possibilità di dirmi un altro desiderio. Sarà forse il caso di chiedergli quell'altro desiderio? Oh potente drago, vorremmo che tu riportassi in vita il nostro caro amico Ivan. Nulla di più semplice. Come desideri. Un bacino. Ma uno non può neanche mangiare un arancino nell'aldilà in santa pace. Il mio lavoro qui è terminato. Addio. E così i nostri giovani eroi hanno esaudito inaspettatamente un altro desiderio. portare in vita il loro caro amico Ivan. Le sfere del drago si sono quindi sparse nuovamente per il mondo. Chi sarà il prossimo a trovarle? Ma si dice arancino o arancina? Ma. Non serve un drago per realizzare il miglior sito web quando c'è già Flazio.